I vaccini. Oggi voglio parlarti dei vaccini, perché purtroppo sento ancora molto spesso che non posso far uscire il mio cane perché non ha ancora finito i vaccini. Non posso portarlo perché il veterinario mi ha detto che non ha ancora i vaccini e quindi non può uscire. Certamente il veterinario ti dice una cosa giusta, ma allo stesso tempo te ne dice una sbagliata, perché se tu non porti il cane a passeggio nei momenti importanti per la sua crescita, ovvero i momenti in cui sta crescendo, sta esplorando, sta imparando ciò che gli succede intorno e quindi sta mettendo nel suo magazzino di esperienze le cose che vive, quando poi finirà i vaccini, perché poi molti cani li finiscono anche a 4-5 mesi o 6 addirittura, quando poi finirai il periodo del stare a casa, quando uscirai ti troverai in difficoltà perché il tuo cane non sa come viversi determinate esperienze. Per cui è importante farlo uscire il cane subito anche senza i vaccini e io l'ho fatto con tutti i miei cani, anche con quella che vedi là dietro, anche con belli capelli che vedi qui e con gli altri e la cosa importante ovviamente è che tu faccia attenzione dove lo porti, quanto può stare a contatto con altri cani, che cosa mangia, ovviamente fallo senza avere quell'ansia, quella preoccupazione che possa succedere o qualcosa di brutto, goditi il momento, presta un po' di attenzione ma fai vivere il cane le esperienze, perché poi mi trovo a dover affrontare l'educazione di cani o la rieducazione in questo caso di cani che hanno paura dei rumori, che hanno paura di altri cani, che al guinzaglio diventano aggressivi, che mordono, che tirano, perché? Perché sono spaventati e non sanno come gestire le emozioni di quel determinato momento, perché tu non gliel'hai fatte vivere, ma non per colpa tua, perché il veterinario ti ha detto che era meglio non fargliele vivere, per cui è importantissimo, è veramente importantissimo che sia tu che il tuo cane iniziate a vivervi esperienze sì dal primo giorno, ovviamente tutto va fatto con metodo, con costanza e gradualità, per far sì che le esperienze che il tuo cane si vive e che tu ti vivi vengano apprese poco per volta, in modo molto graduale e dolce, ok? Ricordati anche che esperienze negative sono sempre costruttive, ovviamente dipende da come tu le vivi. Se, e questa cosa a me capita sovente, perché i miei cani sono educati, li vedi che sono qui tranquilli e sono senza guinzaglio, capita che magari a volte incontro persone che hanno cani che non sono equilibrati e i miei cani vengono morsicati. Ovviamente la cosa mi dispiace, però io continuerò sempre a lasciare i miei cani liberi, perché voglio che i miei cani si vivano le esperienze. Ed è importante che ogni persona impari a gestire le varie attività della quotidianità, come anche questo, e che impari a comunicare e rispettare la psicologia canina per aiutare il proprio cane a essere più tranquillo e sereno. Per cui anche quel tipo di esperienza è fondamentale ed importante per te, per il cane, per imparare come gestire determinate dinamiche ed è bene che vengano vissute, ovviamente sempre in determinati limiti e contesti. Per cui il mio consiglio è quello di viverti più esperienze possibili da subito per riuscire a creare quel legame, con la relazione forte e per riuscire a creare un cucciolo, come vedi, quella lì qualche giorno fa un anno, molto equilibrato, molto sicuro di sé e per riuscire a creare quella relazione importante che si puoi creare solo tu, dando libertà e fiducia al tuo cane, ovviamente sempre tramite la conoscenza, perché le cose fatte a caso non sono replicabili, non sono misurabili e quindi non puoi sapere se stai facendo in modo corretto oppure no. Il mio consiglio è sempre quello di seguire un corso, un corso sulla psicologia, sulla comunicazione canina per arrivare al suo cuore e quindi conquistare la sua fiducia, rispetto e amore. Io posso aiutarti ad apprendere queste competenze, dipende tu quello che vuoi dalla relazione con il tuo cane.